Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremmo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace Non come la dà il mondo, io la do a voi Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore Avete udito che vi ho detto Vado e tornerò a voi Se mi amaste, vi rallegrereste Non credereste che io vado dal Padre Perché il Padre è più grande di me Ve l'ho detto adesso Prima che avvenga Perché quando avverrà Voi crediate Il Signore è la mia forza E io spero in Lui Il Signore è il Salvatore Il Lui confido non ho temor Il Lui confido non ho temor